La trama di questo film la conoscono ormai tutti, primo capitolo della migliore trilogia cinematografica di tutti i tempi. Qualità audio-video ai massimi livelli ed ottimi contenuti speciali. Se qualcuno osasse chiedermi quali film rappresentano meglio gli anni 80, sicuramente gli indicherei senza esitazioni questa pellicola del 1985, un film per tutta la famiglia che ormai è entrato nella storia del cinema.